Vediamo gli esercizi sulle formule coniometrie a cominciare dal 24. Il 24 dice di semplificare questa espressione che è tangente di x più pi greco quarti per 1 meno tangente di x meno 1. Allora, qui useremo ovviamente una sola volta la formula della tangente di alfa più beta che ve l'ho riportata qui per comodità una sola volta perché qui non va applicata la formula, va bene? Ma qui sì perché c'è una somma all'interno dell'argomento di una funzione coniometrica. Quindi indicheremo con alfa sempre il primo angolo, con beta sempre il secondo angolo. Andiamo a sostituire e quindi abbiamo tangente del primo angolo tangente di alfa più tangente di beta. Quindi vado semplicemente a sostituire tangente del primo x più tangente del secondo pi greco quarti diviso 1 meno tangente del primo tangente del primo tangente del secondo quindi 1 meno tangente di x tangente di pi greco quarti e poi riporto quello che c'è dopo quindi per 1 meno tangente di x meno 1 uguale. Ora, la tangente di pi greco quarti sappiamo il suo valore che è 1 perché è seno diviso coseno di 45 quindi hanno gli stessi valori quindi il rapporto è 1 sostituisco 1 a tangente di pi greco quarti e ottengo tangente di x più 1 diviso 1 meno tangente di x quindi sarebbe per 1 ma questo vale 1 per, quindi pure questo fa 1, ovviamente anche questo fa 1 per 1 meno tangente di x che è questo, meno 1 Ora, perché ho semplificato? Sono uguali, vedete? Cioè 1 meno tangente di x e 1 meno tangente di x li posso semplificare perché questi sono tutti i fattori quindi semplifico questo fattore e viene tangente di x più 1 meno 1 e il risultato ovviamente è tangente di x se voi andate a guardare il numero 24 insomma alla fine andiamo a vedere dove stanno questi esercizi sono i primi esercizi delle formule coniometriche era il numero 24, eccolo qua il risultato va bene, tangente di x andiamo a vedere gli altri quindi dal 24 passiamo al 21 quindi il 21 è un po' prima eccolo qua questo quindi anche qui come vedete c'è solo una formula da applicare nella tangente di alfa più beta andiamo a vedere come è stato svolto quindi mi riporto la formula che mi serve e quindi ho radice di 3 tangente alfa meno 1 lo riporto così com'è visto che non c'è nessuna formula da applicare per qui alfa è il primo angolo pi greco terzi è il secondo angolo e quindi avrò tangente del primo più tangente del secondo quindi tangente di alfa più tangente di pi greco terzi sotto c'è 1 meno tangente del primo tangente del secondo quindi tangente alfa per questa è una per tangente di pi greco terzi questa è una più poi c'è questo più radice di 3 che lo riportiamo qua ora qui come prima dobbiamo andare a vedere quanto vale la tangente di 60 gradi basta che faccio seno diviso coseno qui vi ho fatto un attimino un conto per chi non ricorda a memoria la tangente di 60 ma anche se non si ricorda a memoria ci si mette un secondo per andarla a cercare quindi si fa seno di 60 diviso coseno di 60 radice di 3 mezzi diviso un mezzo radice di 3 mezzi per questa girata 2 diviso 1 2 e 2 si semplifica e viene radice di 3 quindi al posto di tangente di pi greco terzi metto radice di 3 quindi questo viene radice di 3 tangente alfa meno 1 qua viene tangente di alfa più radice di 3 eccolo e sotto viene 1 meno tangente di alfa per radice di 3 e poi più radice di 3 alla fine allora anche qui come vedete ci sono tutti i fattori però sicuramente vi accorgete che questo fattore è l'opposto di questo questa è la stessa cosa solo che è cambiato di segno qui era più ora e meno qui è meno e qui c'è più come faccio a farlo diventare uguale? raccolgo un meno da qui quindi raccolgo il meno e cambio segno quindi ho meno invece che fare radice di 3 tangente meno 1 faccio 1 meno radice di 3 tangente tant'è vero che se vado a moltiplicare viene la stessa cosa no? viene meno per più fa meno meno per meno fa più questo mi permette di semplificare di effettuare la semplificazione ma rimane questo meno quindi il risultato finale quale sarà? c'è questo meno che moltiplica tangente di alfa più radice di 3 e poi c'è questo più radice di 3 alla fine adesso si tratta solo di andare a togliere la parentesi e quindi viene meno tangente di alfa meno per più fa meno radice di 3 più radice di 3 questo e questo va via e rimane meno tangente di alfa quindi alla fine sono esercizi che una volta applicata la formula diventano algebrici in un certo senso no? quindi devo stare attento alle semplificazioni ai fattori, alle divisioni ecco quindi giusto un po' di attenzione sulle regole base dell'algebra ma come esercizi di applicazione di formule come vedete è molto meccanico si tratta di andare a prendere la formula e scrivere l'equivalente diciamo di quello che mi è richiesto questo lo vedremo anche nell'altro esercizio quindi meno tangente di alfa il numero 21 eccolo qua meno tangente di alfa allora dal 21 andiamo a commentare il 31 e un doppio stellato come vedete ma non perché è difficile perché qua è facile sbagliare con tutti questi alfa e beta che chiaramente quando li devo usare tutti se non sto attento è facile che mi confonda insomma quindi è molto facile scambiare un alfa per un beta però andiamo a vedere dove sta il 31 quindi sta la pagina dopo eccolo qua insieme a questo gruppo di esercizi e bene o male si risolvono tutti nella stessa nella stessa maniera allora numero 31 come vedete io ho qua ciò coseno della somma coseno della differenza seno della somma e seno della differenza quindi vanno usate tutte e quattro le formule eccole qua va bene me le metto vicino e lì con santa pazienza io vado a sostituire uno per uno e vedo poi alla fine cosa esce fuori dicevo devo fare attenzione a non sbagliare perché qui nelle formule se voi notate vedete qua alfa più beta alfa sta sempre al primo posto anche per quanto riguarda il coseno alfa e beta alfa e beta alfa viene messo al primo posto ma nel seno vengono scambiati vedete non c'è più alfa al primo posto quindi qua è facile confondersi però se l'applico per bene diciamo questo non dovrebbe succedere allora cominciamo il primo è sempre alfa il secondo è sempre beta per tutti quanti quindi se vado a leggere le formule coseno di alfa più beta avrò coseno del primo coseno del secondo quindi coseno di alfa coseno di pi greco sesti poi c'è meno seno del primo seno del secondo quindi meno seno di alfa seno di pi greco sesti poi c'è più più coseno di alfa meno beta devo guardare l'ultima quindi sarà coseno del primo coseno del secondo seno del primo seno del secondo quindi coseno alfa coseno di pi greco sesti seno alfa seno di pi greco sesti poi c'è una bella frazione e prima di scrivere il denominatore mi accorgo subito vedete senza andare lì a sostituire il seno di pi greco sesti lo faccio dopo la sostituzione questi due sono uguali e lì semplifico questi invece no allora vediamo adesso il denominatore qui ciò comincia con seno di alfa meno beta eccolo qua seno di alfa meno beta fate attenzione qua perché qua è seno del secondo coseno del primo quindi avremo seno del primo coseno del secondo quindi seno del primo coseno di pi greco sesti meno devo fare il seno del secondo però perché il seno del secondo è un numero pi greco sesti qui l'ho messo dopo quindi io scrivo prima alfa perché gli do la precedenza ad alfa quindi ho coseno di alfa seno di pi greco sesti è la stessa cosa poi c'ho meno seno di alfa più beta eccolo qua ricordatevi che qui essendoci meno io devo cambiare i segni a tutti quanti perché essendo un meno e c'è una parentesi devo ricordarmi di cambiare segno io ho qua la parentesi non ce l'ho messa ma ho cambiato segno in automatico quindi abbiamo seno del primo coseno del secondo quindi seno di alfa coseno di pi greco sesti seno di alfa coseno di pi greco sesti poi c'è più ma essendoci meno questo più diventa meno coseno di alfa anche qui do la precedenza ad alfa coseno di alfa e seno del secondo anche qui ci sono due termini che si semplificano come spesso accade quindi questo e questo lo semplifico e rimangono questi due che li devo sommare quindi in sintesi cosa rimane al numeratore rimane il doppio sono uguali quindi due per il coseno di alfa per il coseno di pi greco sesti pi greco sesti è 30 gradi il coseno lato lungo positivo quindi radice di tre mezzi anche qui c'è il doppio però c'è un meno perché è meno meno quindi meno due volte il coseno di alfa e il seno di pi greco sesti sarebbe il seno di 30 che è un mezzo quindi coseno e coseno si semplificano il 2 e il 2 si semplifica rimane questo meno questo radice di tre mezzi al numeratore diviso un mezzo vuol dire che devo fare per un mezzo capovolto per il reciproco quindi per due semplifico e viene meno radice di tre bene quindi come vedete anche questo è un esercizio molto meccanico c'è poco da ragionare se non quello di mettersi a sostituire facendo attenzione a non sbagliare meno radice di tre ovviamente è venuto eccolo qua quello dopo è il 38 che è di un'altra tipologia andiamo a vedere se vuole il 38 allora il 38 si chiede di verificare un'identità che vuol dire verificare un'identità eccolo qua quindi questo gruppo riguarda appunto vedere se quello che c'è al primo membro è uguale a quello che c'è al secondo membro ho preso questo ho scelto questo perché comunque qua non ci stanno angoli noti come in questi casi però anche di questi uno lo faremo insomma tanto per vedere un attimino che succede e non è che comporta più diciamo comporta una maggiorifico tanto è vero è solo diciamo un pallino insomma di difficoltà come questi dal resto non sono molto difficili solo che qua c'è da vedere se il primo membro è uguale al secondo membro ma se questo non riesco a dimostrarlo quindi in genere si lavora solo da una parte questo vi voglio dire se vero questo non riesco a farlo utilizzo anche la seconda parte come adesso vi farò vedere allora andiamo prima a vedere questo va bene anzi facciamo una cosa vediamo prima il 36 che secondo me è più immediato il 38 lo vediamo lo vediamo dopo allora se salto subito un attimo al 36 il 36 dice di verificare che il seno di alfa più pi grico terzi è uguale al coseno di pi grico sesti meno alfa come vedete qua ci sono solo due formule da applicare quindi lo dimostro con le formule goniometriche come vedete è molto veloce insomma non è che quindi coseno di alfa più quindi questo è alfa questo è beta come sempre solo che qui devo dimostrare l'uguaglianza tra due termini o come dire se faccio questo meno questo deve essere zero la stessa cosa però se vado a sostituire alfa e beta alfa e beta e sostituisco nelle varie formule avrò che il seno di alfa più beta è seno del primo coseno del secondo seno del secondo coseno del primo quindi ciò seno di alfa coseno di pi greco terzi questo ma coseno di pi greco terzi è un mezzo sarebbe il coseno di 60 lato corto positivo più coseno di alfa il primo seno di beta è radice di tre mezzi come vedete rimane così non è che gli posso fare nulla se vado a fare la stessa cosa con questo coseno di alfa meno beta c'ho coseno del primo coseno del secondo quindi il coseno del primo è coseno di 30 quindi lato lungo positivo radice di tre mezzi coseno di alfa è l'altro l'altro diciamo il coseno del secondo angolo eccolo coseno di beta poi c'ho più seno di alfa seno del secondo è un mezzo perché sempre no scusate seno di alfa il primo pi greco sesti è un mezzo perché è il seno di 60 scusate il seno di 30 pi greco sesti è 30 un mezzo per il seno di alfa ora se vado a vedere queste due quantità sono uguali cioè questo è uguale a questo questo è un punto di domanda no? punto di domanda il seno di alfa più pi greco terzi è uguale al coseno? come rispondete se viene la stessa cosa la risposta è sì oppure se voi semplificate ogni termine viene l'uguaglianza 0 uguale a 0 quindi la dimostrazione di identità non sono altro che delle espressioni come quelle di prima messe in modo diverso io potevo anche diciamo vedere questa come seno di alfa più pi greco terzi meno coseno di questo uguale a 0 oppure uguale basta e lasciare a voi il risultato quindi come vedete uno la frittata la gira come gli pare però alla fine sono sempre gli stessi esercizi il 38 invece comporta una leggera difficoltà in più nonostante non sia indicata qua ma non è una difficoltà semplicemente io devo anche utilizzare questo ma questo dipende sempre dalla strada che scelgo per risolvere l'esercizio però andiamolo a vedere allora il seno di alfa più beta per il seno di alfa meno beta è la differenza dei quadrati dei due coseni sotto forma di domanda uno dice devo vedere no? non lo so facciamo i conti allora andiamo a vedere allora io ho qui seno di alfa più beta e seno di alfa meno beta ecco le due formule che mi servono poiché qua non ci stanno numeri non devo calcolare nessun valore numerico io le copio pari pari quindi io avrò sen alfa cosen beta sen beta cosen alfa eccolo qua per sen alfa cosen beta sen beta cosen alfa eccola qua ora in algebra come si fa quindi questo per ora lo lascio perdere anche perché qui non ci posso fare ben poco non faccio nulla qua allora che faccio in algebra come si fa quando ho un prodotto devo fare il primo per il primo il primo per il secondo secondo per primo secondo per secondo quindi qua viene sen alfa cosen beta per sen alfa cosen beta quindi viene sen quadro cosen quadro di alfa e di beta sono diversi cioè sono uguali vedete quindi sen alfa per sen alfa sen quadro cosen beta per cosen beta coseno al quadrato di beta poi faccio il primo per il secondo quindi meno se vado a vedere come sono questi due sen alfa cosen beta sen beta cosen alfa sono tutti diversi quindi li devo riportare tutte e quattro eccoli qua sen alfa cosen beta sen beta cosen alfa sono tutti diversi non li posso accoppiare insomma fare i quadrati perché sono tutte quantità diverse poi ciò più per più fa più anche qui se faccio sen beta cosen alfa per sen alfa cosen beta sono tutte quantità diverse e quindi ce le riporto per fortuna perché si semplificano perché meno e più quattro quantità quattro quantità tutte uguali le semplifico rimane l'ultimo pezzo più per meno o meno anche qui se voi guardate viene sen quadro di beta e cosen quadro di alfa eccolo qua riporto quello che è rimasto di questa semplificazione e quindi viene sen quadro di alfa cosen quadro di beta meno sen quadro di beta cosen quadro di alfa ok ora come faccio a dire se questa quantità che sarebbe la prima parte è uguale alla seconda ora così se lo guardo io dico non posso dire se sono uguali perché intanto non sono uguali perché li vedo che non sono uguali ma non posso neanche raccogliere qualche cosa qua perché sono tutte quantità diverse qua c'ho sen quadro di alfa e qua c'ho sen quadro di beta qua c'ho sen quadro di beta e qua c'ho sen quadro di alfa quindi non ci posso fare nulla ma neanche vedendola come una differenza di quadrati ci posso fare nulla perché comunque sono sono tutte quantità diverse allora come posso fare utilizzo la seconda parte quindi se il testo del problema mi dice di dimostrare che la prima parte è uguale alla seconda parte mi sta dicendo di dimostrare che quello che c'è qua meno quello che c'è qua fa zero è la stessa cosa se dimostro questo ho dimostrato pure questo quindi che faccio io utilizzo anche questi dati che li utilizzo li utilizzerò insieme a questi allora vediamo che ho fatto la prima parte l'ho ricopiata poi che ho fatto ho preso cos'è un quadro di beta e l'ho portato di là cos'è un quadro di alfa e l'ho portato di là e viene zero deve venire zero vediamo se viene zero se viene zero ovviamente è dimostrata però vediamo mi serve fare questa cosa qui intanto se faccio questa cosa qui ovviamente io ho più oggetti con cui diciamo lavorare quindi ho più chance insomma ma diciamo me ne accorgo subito di questo perché io qui che faccio se vedo che questo e questo non ci posso fare nulla se c'ho pure questo posso accoppiare questo con questo vedete questa linea ondulata cos'è un quadro di beta lo posso raccogliere quindi raccogliendo cos'è un quadro di beta c'ho se è un quadro di alfa meno uno e chiaramente mi viene in mente subito di fare la stessa cosa con gli altri due no? quindi con gli altri due raccolgo cos'è un quadro di alfa e quindi mi viene uno meno se è un quadro di beta allora questo ovviamente deve venire zero vediamo se viene zero cos'è un quadro di alfa chiaramente qua io me ne accorgo subito che questa tra parentesi è nascosta l'equazione fondamentale della coniometria no? se è sen quadro più cos'è un quadro fa uno uno meno sen quadro fa cos'è un quadro quella non ve la dovete mai dimenticare perché vi salva la vita spesso quindi uno meno sen quadro diventa cos'è un quadro cos'è un quadro di beta ovviamente cos'è un quadro di alfa sta qua questo quant'è? eh non è cos'è un quadro perché deve essere uno meno eh ma poiché c'è un quadro meno uno sarà meno cos'è un quadro il meno l'ho messo davanti e cos'è un quadro di beta l'ho ripetuto eh ora chiaramente si è semplificata se la vado a vedere bene c'ho due quantità uguali col segno uno più e uno meno non ho cos'è un quadro di beta cos'è un quadro di beta cos'è un quadro di alfa cos'è un quadro di alfa uno è positiva uno è negativa e quindi queste si semplificano e viene zero uguale a zero va bene? quindi alla fine l'ho dimostrato perché qua viene zero e quindi ho dimostrato diciamo la ehm l'esercizio che mi chiede il libro di dimostrare dimostrato l'identità questa qua quindi come vedete dopo che ho applicato le formule diventa un esercizio di algebra eh devo andare a raccogliere portare di qua e di là cercare di individuare elementi comuni e cercare di arrivare al risultato l'altro esercizio che vi propongo è questo è un'altra tipologia questa volta più numerico diciamo è il 47 che pure questo insomma è sembrano altri tipi di esercizi ma in realtà è sempre la stessa cosa allora vediamo che dice dati i due angoli acuti alfa e beta mi dà il seno di un angolo il coseno di un angolo dell'altro angolo di un altro angolo e mi chiede di calcolare la somma deve venire questo allora andiamo a vedere io l'ho ricopiato qua sopra andiamo a vedere com'è stato fatto allora guardate il testo dice dati gli angoli acuti acuti vuol dire angoli più piccoli di 90 quindi fanno parte del primo quadrante va bene quindi già qua un'informazione importante mi viene data qual è questa informazione che nel primo quadrante seno e coseno sono tutte quantità positive quindi non devo andare a a vedere dove appartengono gli angoli perché comunque primo quadrante angoli acuti minore di 90 seno e coseno sono positivi allora come faccio a calcolare coseno di alfa più beta vado a prendere la formula per vedere quello che mi manca allora il coseno di alfa più beta si fa coseno alfa coseno beta meno seno alfa sen beta ce l'ho tutte queste quantità per vedere il risultato ce n'ho solo due allora a sen alfa ci metto un terzo eccolo qua a coseno beta ci metto due terzi mi mancano questi due che chiaramente io l'ho messi perché l'ho calcolato di prima però vediamo come si calcola no no allora se conosco coseno beta io chiaramente la famosa e cara equazione fondamentale della coniometria mi viene sempre d'aiuto quindi se conosco il coseno posso risalire al seno con la formula inversa quindi più o meno la radice di 1 meno coseno al quadrato di beta e quindi viene 1 meno coseno al quadrato di beta è 4 noni meno comune multiplo 9 meno 4 fa 5 radice di 5 sotto c'è radice di 9 che è 3 quindi coseno di beta sono riuscito a scoprire com'è e ce lo metto qua lo stesso faccio con coseno di alfa è l'ultimo che mi rimane faccio la stessa cosa quindi sarà più o meno la radice di 1 meno sen quadro di alfa il sen quadro è un nono e quindi 9 meno 1 fa 8 terzi perché qua c'è radice di 8 noni sarebbe radice di 8 terzi ora ho tutti i valori numerici li vado a sostituire e vedo quanto fa quindi viene radice di 8 per 2 2 radice di 8 3 per 3 fa 9 meno radice di 5 noni meno comune multiple viene questo se voi guardate il libro da un altro risultato che è 4 radice di 2 ma ovviamente radice di 8 non è altro che la radice di 2 per 4 la radice di 4 è 2 radice di 2 rimane radice di 2 e quando vado a moltiplicare 2 radice di 2 per 2 mi viene proprio l'esercizio del libro 4 radice di 2 meno radice di 5 noni quindi questi sono gli esercizi diciamo commentati e finiamo qua a